insomma non so dove siete nel mondo comunque buongiorno buonasera a tutti e a tutte e ringrazio i colleghi le colleghe il collega che mi hanno preceduta per queste interessantissime presentazioni anzi grazie Emanuele anche per avermi passato la parte perché alla fine hai parlato un po' della della produzione scritta che è quello di cui parleremo oggi e io sono Veronica Terragno insegno la scuola Leonardo da Vinci in Milano sono docente formatrice e Sara è una mia collega prego a questo punto ci presentiamo insieme dato che lavoriamo nello stesso contesto e dato che il CILS l'abbiamo portato in classe tante volte da tanto tempo che siamo somministratrici non che prepariamo gli studenti ed è interessante questo pomeriggio perché permette di avere una visione da valutatrici CILS nel caso di Sara e di Mirella se non sbaglio e poi autori di volumi molto un volume molto interessante che noi utilizziamo spesso e volentieri e consigliamo ai nostri studenti fino al lavoro in classe quindi noi come docenti che prepariamo gli studenti alla certificazione e a questo punto direi che lascio la parola a Veronica e poi magari rientro ogni tanto a rompere le scatole veramente sì grazie allora parliamo appunto del CILS B1 B1 standard in questo caso è ho sentito che si parlava anche un po' delle differenze che Emanuele e il collega hanno hanno detto un po' appunto qual è la differenza tra il B1 cittadinanza e il B1 standard in questo caso si parla di un esame di livello B1 quindi parliamo di un utente indipendente e quello che a noi interessa in questo momento ovviamente per questo webinar nel particolare è l'ultima parte ma in generale possiamo ricordarci un attimo che secondo il quadro comune di riferimento un utente indipendente di livello B1 è in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su diversi argomenti di argomenti familiari argomenti che incontra quotidianamente al lavoro in famiglia nel tempo libero eccetera è un utente che può comunicare con con i nativi in diverse situazioni viaggiando nel paese in cui si parla la lingua in oggetto e in questo caso appunto questa è la parte che risulta più interessante ai fini di questo webinar è un utente che sa produrre testi semplici e coerenti su argomenti che gli siano familiari o che siano di suo interesse è in grado di descrivere in forma scritta e orale le sue esperienze avvenimenti sogni speranze e ambizioni e di esporre brevemente le proprie ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti sembra semplice non è così tanto semplice nel senso che come dicevano i colleghi prima di me partiamo dal presupposto che nel momento in cui si affronta una preparazione a un esame gli studenti e le studentesse già abbiano quel livello nella lingua nella lingua italiana spesso non è così nel senso che esattamente come succede in classe anche durante i corsi di preparazione soprattutto per quanto riguarda i livelli intermedi gli studenti e le studentesse hanno comunque una preparazione un background un'esperienza con la lingua piuttosto eterogenea affrontano questo esame per diverse ragioni alcuni a fini universitari ci sono alcune università io ho ben presente la situazione di milano non so bene cosa succeda nelle altre città ma ci sono alcune università che richiedono il livello b1 per affrontare il test di ammissione in italiano la maggior parte richiedono il livello b2 ma alcune richiedono il livello b1 quindi ci sono studenti che affrontano questo esame per l'università altri per lavoro altri semplicemente per allegare al proprio curriculum ovviamente una certificazione che attesti il loro la loro conoscenza della lingua italiana quindi hanno motivazioni diverse background diversi percorsi formativi diversi e spesso non è semplice conciliarli l'esame cb1 è costituito così ci sono cinque prove la durata totale è abbastanza lunga perché si parla di più o meno tre ore tre ore e mezza poi dipende e l'ascolto dura 30 minuti ed è composto da tre prove la comprensione della lettura dura 50 minuti e anch'essa è composta da tre prove la grammatica quindi le analisi e le strutture della comunicazione sono quattro prove e dura un ora la produzione scritta è composta da due prove dura un'ora e dieci minuti e la produzione orale circa dieci minuti in totale in realtà poi il tempo dell'esame in sé è poco più di cinque in generale però insomma in totale circa dieci minuti e perché ho scelto di affrontare la produzione scritta è sicuramente io appena finito di fare un corso di preparazione all'esame che ci sarà martedì e la produzione scritta è sempre quella che spaventa di più è quella con cui gli studenti hanno più difficoltà e spesso purtroppo è anche quella a cui si riesce a dedicare un po meno tempo nel senso che c'è bisogno di tempo per scrivere durante le lezioni ovviamente è un'attività che gli studenti possono fare a casa da soli e poi viene corretta insieme eccetera però questo è uno step successivo quello su cui ho riflettuto soprattutto nell'ultimo periodo è come prepararli prima poi ad affrontare dei modelli degli esempi delle prove quindi quali possono essere le attività precedenti che precedono proprio la fase poi di scrittura che ovviamente non viene fatta sempre in classe e quindi prima di tutto ho ripreso mentalmente poi fisicamente il sillabo il sillabo del b1 e il sillabo comprende prima qualcuno chiedeva se i sillabi degli esami standard e degli esami cittadinanza sono uguali e la risposta è sì nel senso il sillabo grammaticale lo stesso e per quanto riguarda il b1 abbiamo ovviamente gli articoli gli aggettivi pronomi i gradi dell'aggettivo pronomi diretti indiretti combinati le preposizioni gli avverbi alcuni connettivi testuali ovviamente non tutti connettivi testuali soprattutto con l'indicativo meno con il congiuntivo e a proposito di verbi abbiamo imperfetto passato prossimo futuro semplice futuro anteriore tra passato prossimo condizionale presente i tempi semplici del congiuntivo quindi presente e imperfetto e alcuni verbi aspettuali verbi con preposizione e sono tante cose sono tante cose e spesso sono cose che oralmente o in un esercizio di grammatica si riescono a sistematizzare in qualche modo a utilizzare e a sistematizzare nel caso della grammatica in una produzione scritta libera o pseudo libera è molto più difficile nonostante ci sia comunque più tempo per pensare ci sono poi delle delle cose positive no che gli studenti vedono nella nella prova scritta che riguardano soprattutto il tempo di riflessione eccetera però ovviamente ci sono diverse criticità produzione scritta vediamo un attimo di che cosa parliamo abbiamo due prove la prima prova è un testo di 100 120 parole e si tratta di un testo descrittivo o narrativo poi vedremo alcuni esempi e invece la seconda prova è una email una lettera un'email informale di 50 80 parole destinata a parenti amici quindi un'email informale come si diceva prima per quanto riguarda la seconda prova spesso molto utile sistematizzare un po le strutture nel senso che la cosa positiva dell'email è che una parte della mail è composta diciamo da formule che si ripetono e che quindi possono essere adattate poi a qualsiasi tipo di argomento nel senso che se io devo scrivere un email per parlare di un corso di chitarra di un corso di yoga o di una vacanza più o meno le strutture sono le stesse quello che cambia poi il contenuto però la struttura della mail è la stessa e il fatto che sia una prova un pochino più strutturata probabilmente la rende più semplice rispetto alla prova numero uno ovviamente non per tutti poi l'esperienza è soggettiva però sicuramente ha diciamo qualche criticità in meno rispetto a una produzione quasi totalmente libera anche perché poi vedremo la traccia del della prova numero due è anch'essa un po più strutturata rispetto alla traccia della prova numero uno questi sono i criteri di valutazione se ne parlava un pochino anche prima ogni prova ha un massimo di dieci punti e ovviamente in entrambe le prove la il criterio più importante l'aspetto più importante riguarda l'efficacia comunicativa questa è una cosa su cui io insisto molto con i miei studenti e le mie studentesse il fatto che prima di tutto questo testo debba essere efficace prima che corretto prima che coerente prima che ortograficamente corretto eccetera perché spesso anche qui livello b1 le tracce sono varie purtroppo succede che gli studenti e le studentesse facciano fatica a capire la traccia nella prova numero uno soprattutto questo a volte succede e questo ovviamente è uno scoglio poi abbastanza insuperabile nel senso che nel momento in cui noi ci esercitiamo con qualsiasi tipo di attività io tendo a ovviamente a chiedere ai miei studenti di non usare traduttori cellulare edizionari eccetera e spesso il primo scoglio è la comprensione della traccia è successo durante la preparazione di questo esame appunto che ci fosse una prova che probabilmente dopo messo tra gli esempi non ricordo che diceva descrivi il tuo percorso formativo fino ad oggi e nessuna delle mie studentesse aveva davvero capito di che cosa doveva parlare e quindi insomma questo è un bisogna sicuramente avere anche poi un un lessico adeguato una correttezza morfosintattica eccetera però l'efficacia chiaramente sono quattro punti su dieci quindi è fondamentale ovviamente correttezza morfosintattica è il secondo criterio per quanto riguarda la prova 1 e la grammatica l'uso della grammatica anche qui bisogna sempre ricordare secondo me agli studenti e le studentesse che non è necessario produrre testi particolarmente complessi dall'altra parte livello b1 stiamo parlando di un livello intermedio stiamo parlando di un livello che richiede comunque un minimo di subordinazione un minimo di utilizzo di tempi verbali adeguati al livello perché un testo può essere quasi quasi completamente corretto ma comunque non essere un testo da livello b1 e questo insomma è molto spesso ci sono tutti e due gli estremi no ci sono alcune persone che tendono a provare a scrivere testi estremamente complessi senza riuscirci e non è necessario farlo dall'altra parte invece ovviamente alcune altre persone restano un po nella comfort zone e scrivono delle cose estremamente semplici estremamente lineari purtroppo spesso troppo semplice troppo lineari e quindi trovare anche un po la quadra in in questo livello di complessità non è sempre così scontato ora volevo chiedere a voi sia che voi abbiate preparato degli studenti delle studentesse per un per il cils sia che non l'abbiate mai fatto secondo voi quali possono essere le difficoltà le criticità della produzione scritta rispetto alle altre prove chiedo a sarà per favore di mettere il link del sondaggio in chat e grazie mille sarà e vi chiedo di rispondere con tutto quello che vi viene in mente io intanto guardo le vostre risposte basta cliccare sul link e scrivere è molto semplice non bisogna autenticarsi non bisogna fare nulla ok vedo già alcune risposte le doppie l'ortografia perfetto l'ortografia molto successo oddio ho ricevuto più di 200 risposte le preposizioni riuscire a dimostrare il livello in così poche parole la pianificazione del testo non siamo abituati a scrivere capire la traccia l'interferenza della lingua madre il lessico le doppie le doppie la punteggiatura non siamo abituati a scrivere nemmeno nella nostra lingua madre quello che ho detto io quindi testi troppo lineari per non compromettersi il vocabolario la coerenza la formulazione delle frasi la padronanza lessicale o le preposizioni scrivendo anche sulla chat vedo scusa se ti interrompo filtro affettivo preposizioni coesione delle idee sintassi non so se stanno facendo contemporaneamente però per dare voce anche a chi sta scrivendo sulla chat sintassi la subordinazione esatto esattamente cioè tutte queste cose ahimè sono tante e e tutte sono gli avverbi interferenze certo con la propria lingua madre assolutamente sì sono tutte delle criticità io qui ho scritto le prime cose che mi sono venute in mente a queste potete aggiungere le centinaia di risposte che avete inviato e sono tutte assolutamente corrette non siamo abituati a scrivere come diceva qualcuno non siamo più abituati abituati a scrivere neanche nella nostra lingua madre io non scrivo molto forse scrivo delle mail sì non scrivo delle mail a familiari e amici non succede spesso e anche questa è una cosa su cui riflettere credo in altri livelli più alti la la seconda prova è una è un email formale probabilmente siamo più abituati a scrivere email formali che email quindi siamo abituati a scrivere whatsapp per per dire ai nostri amici vieni a fare un corso di danza con me più difficilmente lo facciamo via mail quindi è una cosa che ahimè spesso risulta anche un pochino poco realistica e in generale non siamo soprattutto abituati a scrivere testi a scrivere temi su un argomento a meno che non stiamo ancora studiando a scuola e questo può aiutare ovviamente e la scrittura comprende diverse abilità che possono essere carenti anche nella propria lingua madre penso tantissime persone che conosco che probabilmente non non saprebbero veramente mettere insieme un testo coerente e coeso tutto quello che avete scritto quella giusta punteggiatura poi ovvio non non si richiede a uno studente e una studentessa di livello b1 una padronanza così alta della lingua però comunque quello che è scritto come come diceva l'altro giorno la mia studentessa l'è molto brava lei diceva però quello che è scritto rimane lì lo leggono parlando si può un po dissimulare no si può un po correggersi riformulare il pensiero eccetera eccetera scrivendo questo non si può fare e quindi la scrittura un po spaventa no molto spesso c'è anche una grande difficoltà a trovare materiale ci sono ovviamente manuali abbiamo appena parlato del manuale di livello b1 cittadinanza esiste ovviamente e anche quello viene usato e strausato da noi il manuale di livello b1 standard di ornimi e ma non sono così tanti ai testi i manuali di questo tipo i testi di questo tipo il materiale reperibile online non è così cospicuo preparare la grammatica è molto più semplice da questo punto di vista per quanto la prova di grammatica chiaramente sia molto complessa per per chi deve affrontare l'esame in realtà però il materiale veramente tanto e e poi appunto quello che abbiamo detto l'ortografia le doppie le doppie le doppie sono ovviamente uno dei problemi maggiori la punteggiatura e sì assolutamente sono sono d'accordo ora a fronte di tutte queste problematiche che cosa possiamo fare qui vi ho messo giusto per così per vedere insieme alcuni esempi di prove leggermente rivedute corrette per non scriverle esattamente uguali però un luogo che vorresti visitare descrivilo spiega i motivi per cui vorresti visitarlo e con chi parla il tuo percorso formativo appunto racconta la trama del tuo film o della tua serie tv preferita racconta un evento della tua vita che ti ha colpito particolarmente non sono argomenti difficili per per una persona che padroneggia il livello b1 siamo alla fine del livello b1 in teoria se si affronta un un esame di certificazione però sono spesso argomenti di cui gli studenti non sarebbero così tanto in grado di parlare neanche nella loro lingua madre e di scrivere ancora meno 100 120 parole non sono tante non sono neanche pochissime quindi quello che io credo sia utile fare è proprio cercare di arrivare a questo cioè dare semplicemente delle prove da fare fare correggere fare correggere ha senso fino a un certo punto ha senso perché bene o male può cambiare l'argomento chiaramente l'argomento cambia ma la struttura della prova scritta è quella cioè magari non si parla di un episodio della tua vita che ti ha colpito ma si parla di qualcosa che ti ha fatto ridere di un episodio divertente o di una volta in cui ha avuto paura o di una volta in cui sei stato preoccupato preoccupata quindi più o meno cambia un attimo la sensazione il sentimento ma il racconto può essere simile dall'altra parte però bisogna anche strutturarlo un po proprio perché è una prova così libera bisogna strutturarla un po e soprattutto bisogna riabituarsi o abituarsi a scrivere e quindi le attività questa è la produzione scritta numero due che come vi dicevo è un pochino più strutturata scusate ma ho un'allergia terribile quindi oggi va così un pochino più strutturata la traccia e perché allora fino ad oggi negli ultimi tempi è sempre stata una risposta a una mail informale quindi cara stefania pensavo di iscrivermi a un corso di lingue ma non sa se iscrivermi a un corso in presenza o un corso online io preferirei in presenza ma quello online a orari più comodi per me cosa mi consigli un abbraccio michele rispondi alla mail nella mail devi congratularti con michele per la sua idea dare un consiglio a michele spiegare perché invitare michele a comunicarti la sua decisione quello che devo scrivere c'è già ok quindi i punti fondamentali che devo mettere in questa email ci sono già e questo è un grande aiuto è un grande aiuto perché comunque da una struttura che insieme alle formule di apertura e di chiusura che comunque sono sempre le stesse ci dà una buona parte di queste 50 80 parole c'è quello che poi davvero io devo aggiungere di mio è poco per fortuna e quindi qui secondo me quello che si può fare adesso lo vedremo ho preparato vi faccio vedere velocemente ho preparato tre attività da svolgere in classe tre attività che non sono semplicemente attività di facciamo la prova insieme ma come arriviamo a fare questa prova ovviamente sono tre attività fatte con tre siti diversi che adesso vi faccio vedere tutti e tre sono gratuiti o almeno tutti e tre hanno una versione gratuita quindi possono essere utilizzati gratuitamente e io ho preparato queste tre attività con la versione base del sito e sono appunto tre siti diversi sono molto semplici da usare quindi quello che a me poi interessa è anche ovviamente questo per il mio lavoro quotidiano è che queste attività siano utili che siano comunque performanti in qualche modo che non mi richiedano una preparazione di ore perché non ne varrebbe la pena onestamente e che siano riutilizzabili che siano riutilizzabili più e più più volte quindi che siano possibile generiche e ahimè la prima prova la prima attività è una cosa che io non faccio mai in classe in questo modo perché la trovo noiosa ma è un dettato però il dettato è utile il dettato è utile per ovviamente per l'ortografia e in questo caso io ho registrato la mia voce ora non sentiremo tutto ovviamente la cosa interessante di questo tipo di dettato che appunto si può fare da soli si può fare in classe in gruppo e ognuno scrive una parte poi ci si confronta e si mette insieme la storia la cosa interessante è che vi faccio vedere giusto per fare un piccolo esempio se vuole partire è che il mio libro preferito si intitola persone normali della scrittrice blablabla blablabla i protagonisti sono due giorni si può mettere in pausa si può ricominciare a riascoltarlo dall'inizio dall'edit dopo vi faccio vedere velocissimamente come è creato ma dall'edit si può anche rallentare o velocizzare e nel momento in cui si finisce e si clicca su verifica secondo me questo è molto interessante perché qui c'è il testo originale che quello che io ho inserito in fase di preparazione dell'attività qui c'è quello che ho scritto io e qui ora io ho scritto solo le primissime parole ma qui ti aggiunge ti fa vedere con un altro colore sottolineato quello che hai sbagliato questo è molto utile secondo me non è noioso non è così noioso se lo si fa in classe appunto ascoltando ognuno separatamente alcuni pezzi della conversazione e e poi mettendo tutto insieme è utile utile per le doppie utile per la punteggiatura quello che io faccio di solito è non dettare la punteggiatura farlo scrivere e poi fare inserire la punteggiatura in un secondo momento rileggendolo e cercando di inserire appunto tutta la punteggiatura questo l'ho fatto con educa play che è un sito appunto gratuito o meglio ha una versione gratuita adesso vi faccio vedere velocissimamente questa è l'attività il mio libro preferito questo è il report ma non mi interessa my activities voilà perché non mi va nell'edit scusate ma con tutte queste finestre aperta è complicato allora è molto semplice vi faccio vedere veramente un secondo questa parte iniziale che sono i dati generali ci sono già voi qui non dovete toccare niente quando preparate l'attività quello che dovete fare è semplicemente scrivere il testo e poi caricare uno due tre quattro cinque file audio che potete registrare i file audio devono essere in mp3 io li ho registrati semplicemente dal dal computer li ho caricati è molto semplice c'è proprio un pulsante di qua cliccate su add e vi appare la finestra upload audio scegli file e scegliete il file dal vostro computer poi bisogna scegliere i settings ma è molto semplice perché io li lascio sempre così come sono e mettere tre tag qualsiasi in questo caso io ho messo italiano grammatica dettato è un'attività semplice un'attività veloce da preparare è un'attività che piace o almeno è piaciuta e quando l'ho provata e sicuramente aiuta aiuta ci sono cose che sono veramente molto complicate che riguardano l'ortografia però fare qualche dettato secondo me può può aiutare aspettate che ritorno in presentazione un'altra attività secondo me molto carina da fare in gruppo è quella di scrivere una storia scrivere una storia si può fare in tanti modi io in questo caso ho usato un altro sito proprio per farvi vedere più cose possibili che flippiti non richiede neanche l'iscrizione flippiti ho creato queste categorie ed è la classica storia in cui si gira la ruota e abbiamo chi cosa quando e dove la nonna una rissa per il parcheggio due anni fa no domani in un laboratorio di fisica quindi ho creato le categorie è molto semplice anche questo l'idea è quella di avere ve lo faccio vedere qui aspettate che chiudo questo allora praticamente non è difficile nel senso che flippiti lo vedete qui a non ve lo scrivo perché qua flippiti è un sito dove si possono creare queste attività scrivendo tutte se voi andate sull'home page di flippiti scegliete il ve lo faccio vedere velocissimo anche se non ho tantissimo tempo ok potete scegliere io ho scelto questo flippiti randomizer andando su instructions potete qui avete esattamente come si fa c'è un template su google moduli su google docs scusate bisogna creare una copia di questo template quindi cliccare su crea una copia e qui avete le colonne le colonne sono tutte le colonne della ruota si possono aggiungere colonne si possono togliere delle colonne questo è un documento quindi chiaramente io ho modificato tutto ho scritto nelle colonne quello che volevo scrivere qua potete scrivere quello che volete chi cosa eccetera eccetera dopodiché qui sotto c'è un pulsante qui c'è scritto randomizer a sinistra e a destra c'è un'altra pagina su questo excel e c'è scritto get the link here cliccando sul link si può pubblicare l'attività ora io non la pubblico perché questa non avrebbe senso ma è molto semplice e basta seguire tutti i passaggi in inglese ahimè che ci sono sulle instructions e poi l'ultima attività queste due attività sono in generale sulla scrittura e sono carine sono divertenti gli studenti si divertono molto perché poi io cerco di mettere le categorie ovviamente più assurde possibili ed è un modo carino per fare una scrittura collaborativa che come diceva prima la collega si può fare tranquillamente online o on site senza particolari differenze anche usando semplicemente un google docs aprendo google docs condiviso mandando il link a tutti si può scrivere insieme sulla stessa pagina e l'ultima attività invece riguarda la diciamo la seconda prova la mail questa attività l'ho creata con geniali geniali è un altro sito che ha tantissime attività abbastanza semplici nel senso che i template sono non so perché non la apre ma l'aprirà i template sono già fatti molto molto semplici e io qui ho messo una prova quello che dice ti sei scritto o iscritta a un corso di arte da pochi mesi scrivi una mail a un amico o un'amica in questa mail devi parlare del corso descrivere come si svolge cosa si fa in classe spiegare cosa ti piace del corso e perché invitare il tuo amico la tua amica a provare una lezione quello che io ho fatto è stato semplicemente esplodere in qualche modo queste tre specifiche queste tre richieste perché ho creato questa piccolissima lavagna in cui ho messo esattamente quello che gli studenti o le studentesse dovranno dire quindi la prima parte diceva descrivi il corso descrivi il corso abbiamo teoria e pratica bisettimanale e in orario serale non ho scritto i giorni e l'ora quello che ho fatto è stato dare delle specifiche in più affinché loro poi scrivessero le informazioni che volevano quindi ho scritto bisettimanale in orario serale e poi la studentessa lo studente avrà scritto il corso è il lunedì e il mercoledì dalle 6 alle 8 per esempio teoria e pratica quindi che cosa facciamo in questo corso descriviamolo c'è una parte del corso in cui leggiamo dei testi e una parte in cui dipingiamo quelle tempere perché ti piace un altro punto era di perché ti piace e io ho scritto economico in centro e poi ho scritto l'insegnante quindi il corso mi piace perché costa solo 200 euro per tutto l'anno l'insegnante è creativa interessante eccetera eccetera coinvolgente eccetera eccetera e consiglia alla tua amica di provare una lezione e quindi anche qui ho messo due cose che si possono scrivere ossia c'è un posto libero ho scoperto ieri che c'è ancora un posto libero e secondo me questo corso sarebbe perfetto per te perché hai bisogno di distrarti dopo la rottura col tuo fidanzato e questo è quindi qui semplicemente ho dato qualche informazione in più per per sviluppare questa e-mail e ho scelto appunto tre siti diversi proprio perché online ci sono tantissime risorse spesso ci si perde un po' questi secondo me sono tre siti che si possono tenere in considerazione perché sono semplicissimi da usare davvero perché poi ogni volta che lo dico tutti dicono no ma sarà super difficile fare queste cose no non lo è assolutamente e sono semplici le attività vengono conservate non hanno Veronica perdonami 5 minuti perfetto grazie mille certo le attività permangono e c'è un buon numero di attività che si possono fare con la versione base purtroppo ci sono alcuni siti che fanno delle cose molto carine o con cui si possono fare delle cose molto carine che però hanno un numero di attività bassime nella versione base basso per me per me è troppo basso quindi questi siti invece non hanno questo problema e hanno avuto successo ecco quindi mi baso soprattutto sull'esperienza sono tre attività che hanno avuto successo vi saprò dire fra tre mesi se hanno avuto successo poi davvero anche nei risultati per quanto riguarda l'ultimo corso che ho fatto però diciamo che ora come ora pare che abbiano avuto successo e per quanto riguarda gli strumenti per la preparazione ovviamente come dicevo prima il manuale di Ornibi percorso CISB1 è un libro che noi utilizziamo strautilizziamo e è molto utile è molto utile perché è quello che è necessario e questo lo avete detto e lo ripeto scusate se lo ripeto anch'io quello che è necessario spesso è davvero far entrare gli studenti nell'idea della struttura dell'esame perché è difficile perché molte volte queste persone non è detto che abbiano fatto già un esame di lingua straniera e non lo so banalmente mi viene in mente una cosa che forse è stupida però banalmente il foglio delle risposte è difficile da compilare per alcuni quindi fare tante prove tanti esercizi che riprendono esattamente l'esercizio dell'esame abbiamo visto l'ascolto con i semi di dialoghi di prima eccetera eccetera è assolutamente utile quindi questo è sicuramente un manuale da utilizzare nelle preparazioni preparazioni che prima qualcuno chiedeva i tempi eccetera questo dipende questo dipende molto basta sto zitta per capito grazie Simone Simonetta nel dire che nelle linee guida del CILS il congiuntivo non è nel B1 ma nel B2 il sillabo che io ho presentato infatti non c'era scritto che era delle linee guida CILS ma del nostro corso di preparazione scusate se non l'ho specificato noi affrontiamo il congiuntivo a livello B1 e spesso nell'esame secondo me quindi è un consiglio spassionato è necessario conoscere il congiuntivo non tanto perché è obbligatorio inserirlo perché spesso appunto magari c'è il verbo non so se bla 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 dove va benissimo l'indicativo però nell'intervista e nella lettura spesso è presente quindi è un sillabo che riguarda puramente la preparazione che mi riguarda quindi scusate se non sono stata chiara in questo senso prego Sara va bene, è una logra iscriviti al nostro canale grazie a tutti